Oggi parliamo di una formula di acquisto che potrebbe essere estremamente interessante per qualcuno di voi e poi un dettaglio molto importante sulla Model 3 Long Range a trazione posteriore e poi visto che ci siamo vi do qualche dettaglio sulle attività future del canale. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Oggi domenica non ci sono grandi notizie però ne approfitto per darvi un paio di informazioni e poi darvi così un'idea delle prossime attività del canale. Cominciamo subito con le due informazioni che voglio darvi. Allora se state acquistando una nuova Tesla sappiate che c'è la possibilità, che non è riportata da nessuna parte, però è confermata ve lo dico al 100% è la possibilità di avere un noleggio a lungo termine a chilometraggio illimitato esattamente come ho noleggiato la Smart di mia moglie. Tra l'altro Smart l'ha pubblicizzato a destra e a sinistra, Tesla no. Il noleggio avviene con ALD ed è una formula che dovete chiedere al vostro advisor nel momento in cui siete interessati all'acquisto oppure dopo che prenotate l'auto con i 250 euro canonici sul configuratore. Questa formula non è presente né nel configuratore né nell'account ed è a quanto capito per ora promozionale e non so quando scade, sicuramente arriverà alla fine dell'anno. A quanto capito vale su tutti i modelli, quantomeno sicuramente su Model 3 e Model Y e permette di noleggiare a lungo termine una Tesla per 4 anni. Il contratto deve essere di 4 anni, né 3 né 5, 4 anni, chilometri illimitati e questo è davvero davvero interessante. Però non sono ancora riuscito a farmi dare un prospetto dei prezzi, diciamo così perché all'interno di questo contratto si possono scegliere varie opzioni quindi tutte le franchigie, potete scegliere quelle che volete per il furto, per i danni, per la casco perché è compresa anche la casco, se avere le gomme invernali estive oppure no insomma tutta una serie di scelte che si possono fare che vanno a cambiare il prezzo finale. Ripeto, non sono riuscito ad avere un riscontro però se i prezzi sono sulla falsariga e secondo me lo sono di quelli che ho visto per Smart e ripeto l'ho presa proprio con questa formula probabilmente chiedere agli advisor vale la pena quindi così, era un consiglio per darvi un'opzione in più di acquisto, diciamo noleggio secondo me per chi fia tanta strada, diciamo dai 20-25 mila chilometri in più all'anno secondo me vale veramente la pena e poi un dettaglio sulla Model 3 Long Range a trazione posteriore che è stata introdotta poco tempo fa l'ho già chiesto a Tesla, appena gli arriva insomma possibilmente con i loro impegni parliamo della macchina stampa, insomma mi piacerebbe provarla molti di voi mi hanno scritto per chiedermi se la potenza riportata sul libretto permette di acquistarla con la legge 104 quindi per i disabili mi arriva la conferma da uno di voi proprio Stefano che ha avuto risposta dagli advisor bene da libretto avrà 90 kilowatt quindi è assolutamente acquistabile con le agevolazioni fiscali che insomma aspettano a chi ha delle disabilità quindi ottima notizia tra l'altro proprio quando ho provato la Model Y a trazione posteriore Long Range avevo detto la stessa cosa perché rientrava proprio con i kilowatt da libretto quindi non mi aspettavo niente di diverso anche da Model 3 comunque questa è la conferma per chi fosse interessato ora un referral tre ringraziamenti e poi vi dico tutto sul futuro del canale il referral è quello di Francesco che ha ordinato la sua nuova Tesla utilizzando il referral di Fabrizio io sono già arrivato a 10 credo che Fabrizio sia a 2 o 3 quindi se volete trovate in descrizione il suo referral ma potete trovare una marea di referral siamo oltre 500 lampiditesla.it trovate in alto i tastini referral potete o condividere il vostro oppure trovarne uno che vi piace per avere i 1000 euro di sconto e ora veniamo al supporto e ringraziamenti per il supporto che grazie mille davvero tanto non mancano mai allora Andrea che è un supporter costante del canale soprattutto quando facevo i video sulla 500 ne ho fatti pochi purtroppo però a lui piacevano molto perché ce l'ha e mi ha scritto una cosa un po' particolare ora ve la leggo fate attenzione sui social network dalle viscere della terra popolato da gufi elettrofobici elettrofulminati cialtroni di umanità varia emerge inconfondibile la luce dei tuoi video che ci proiettano in modo irreversibile e permanente verso il futuro delle tecnologie continua così Fabrizio esagerato Andrea io ti ringrazio tantissimo intanto per quello che hai scritto ci hai messo proprio dell'impegno e quindi vuol dire che ci hai perso del tempo e ti ringrazio davvero davvero tanto sia per quello che hai scritto che per il tuo supporto costante poi un altro ringraziamento a Corrado anche lui un abitué del supporto mi ha scritto per la birra che non sono riuscito a offrirti questa estate sì perché è venuto qui in vacanza ma purtroppo non siamo riusciti a incontrarci scherzo solo per la compagnia di informazione vera che fai questo ed altro un abbraccio beh grazie mille davvero Corrado e poi l'ultimo per oggi ringrazio Filippo che ha supportato il canale e mi ha scritto un piccolo supporto al canale colazione tra parentesi per i tuoi continui aggiornamenti che ci fai sul mondo Tesla ora colazione cosa vuol dire che mi offri una colazione oppure che sei del team colazione perché leggendo i vari commenti ho scoperto che sono vari team che seguono i lampi di Tesla allora c'è il team colazione quindi voi andate a colazione vi mettete lì così vi rovinate subito la giornata guardando i lampi di Tesla oppure c'è il team il team cesso qualcuno me l'ha scritto che guardano i lampi mentre fanno altro probabilmente è stimolante guardare i lampi e poi c'è il team insonnia e probabilmente guardare i lampi tardi la notte non so agevola prendere sonno e quindi diciamo che i lampi funzionano in più momenti della giornata magari faccio un sondaggio di quale team siete era così una cosa divertente grazie mille Filippo per il supporto ma ora veniamo alle attività del canale in generale allora intanto vi ricordo che giù in descrizione trovate varie convenzioni con per esempio l'assicurazione oppure l'acquisto di altre cose non accessorio altro solo alcune cose che possono darvi dei vantaggi trovate anche il link allo shop di salvo se volete è roba sua però fa piacere insomma se magari volete una maglietta di lampi di Tesla trovate sempre in descrizione il link per acquistarla ve lo ricordo perché non è così scontato andare a vedere la descrizione allora un po' di cose l'ho segnato perché se no mi perdo allora Tesla Cam Italia canale che ho aperto insieme a Paolo i Rocket ogni domenica più o meno domenica pomeriggio cerchiamo di rimanere costanti pubblichiamo i video delle vostre Dashcam e delle Sentinelle ed è un canale di reaction quindi ora vedrete già il video il prossimo video quello che uscirà oggi è un po' diverso da quelli precedenti insomma ci siamo trasformati un po' più in reaction quindi non vediamo i video prima e li vediamo direttamente quando registriamo ci siamo divertiti a farlo questo terza puntata poi torna e questa è una notiziona per fortuna insieme alla pista sul ghiaccio di Livigno siamo riusciti a trovare un accordo sulle date anche per l'anno prossimo per lampi di Tesla on ice vi lascio qui sopra il video dell'anno scorso è stata un'attività bellissima poi vi darò tutti i dettagli in un video dedicato però intanto voglio dirvelo perché così cominciate a fissare sulle date i giorni 6 e 7 marzo 2025 presso il ghiacciodromo di Livigno poi ho un'idea che spero di poter realizzare sicuramente vi piacerà tantissimo per inizio 2025 vediamo un po' se riesco a realizzarla e quest'idea riuscirò a realizzarla grazie al vostro supporto quindi visto che continuate a supportarmi mi piace diciamo utilizzare il supporto che mi date per portare qualcosa di bello secondo me sul canale che altrimenti non sarebbe possibile quindi idea per inizio 2025 vediamo un po' poi ho in programma no in programma diciamo che vorrei organizzare vorrei organizzare una visita alla Giga Berlin devo capire ancora ovviamente ormai parliamo 2025 devo ancora capire se riesco a incastrarla insieme a insomma a Tesla però se riesco a avere una finestra per la visita alla Giga Berlin organizziamo l'ampia alla Giga Berlin bellissimo poi Tesla in pista quindi parliamo già verso l'estate vediamo se non sono convintissimo perché l'anno scorso è stato molto come dire impegnativo sotto vari punti di vista vi ricordo Varano lo scorso anno e anche due anni fa tra l'altro però l'anno scorso abbiamo preso proprio in esclusiva la pista per il pomeriggio quindi è stato abbastanza impegnativo vediamo un po' se riusciamo a riorganizzarla aggiustando alcuni aspetti vedremo se sarà Varano o da qualche altra parte insomma vi dico che ci sto pensando e poi magari bolle qualcos'altro in pentola non vi svelo altro insomma vediamo vediamo un po' se salta fuori qualcos'altro bene dai questo era un video come dicevo di domenica così tranquillo rilassato e mi fa piacere così condividere anche questo tipo di informazioni questo tipo di video con voi questo è tutto per oggi vi ringrazio come sempre e ci vediamo la prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti